Buongiorno a tutti, grazie per chi si è collegato solo ora per la prima volta e grazie a tutti quelli che erano già presenti questa mattina con l'altro importante convegno che abbiamo tenuto, un appuntamento periodico che teniamo qui alle fiere di Cremona che si chiama appunto Milk.it. E oggi pomeriggio la volta di un altro appuntamento periodico che noi da, vorrei dire, almeno 18 anni teniamo regolarmente alle fiere di Cremona ed è l'appuntamento Quali Services, i nuovi sistemi di certificazione della qualità. Abbiamo iniziato in tempi non sospetti quando ancora la certificazione era da vedere se fosse stata così utile nelle transazioni commerciali e devo dire che negli anni tutto quello che abbiamo seminato si è verificato con molta puntualità e quindi è diventato per quanto non cogente ma ancora volontario si è dimostrato un sistema assolutamente necessario in tutte le transazioni commerciali soprattutto quelle con l'estero. Per chi non ci conoscesse mi tocca ma lo faccio con ovviamente con molto piacere in qualità di presidente dell'Associazione Italiana di Tecnologie Alimentare che è l'associazione che unitamente alle fiere di Cremona che ovviamente ringrazio ma è casa loro in questo momento. L'Associazione Italiana di Tecnologie Alimentare è la maggiore associazione scientifica del settore. Di tecnologia ci tengo a sottolineare non dei technology perché molte volte vedo ancora un po' di confusione fra i colleghi ma io non sono tecnologo non voglio non posso partecipare ecco l'associazione è un aggregazione di tutti gli operatori che sono coinvolti a diverso titolo tecnicamente nell'industria alimentare quindi ci va da competenze che spaziano dalla veterinaria alla tecnologia alimentare alle biologie alle scienze naturali e anche i non laureati sono coperti da questa associazione. Un'associazione senza fine di lucro e a politica che è nata 42 anni fa quindi anche molto anziana e ha una quota di partecipazione decisamente popolare la quota di iscrizione all'Aita è di 100 euro e questo dà diritto a un abbonamento annuale alla rivista leader che è industria alimentare che già di per sé quasi copre l'intera quota di iscrizione. Oltre alla ricezione delle nostre periodiche newsletter per periodi che intendo almeno 3-4 per settimana la partecipazione gratuitamente ai nostri webinar e alla partecipazione con quote privilegiate ai nostri corsi di formazione. Ecco direi che per la quota di iscrizione questo non è poco e quindi siete invitati a fare un giro al sito www.aita-nazionale.it per se volete iscrivervi già online con carte di credito con paypal e comunque informarvi sulla nostra associazione. L'attività dell'associazione si è convertita necessariamente da marzo come potete immaginare in modalità online e questo ha generato un ampio successo sia da parte nostra che da parte dell'utenza per i vantaggi reciproci legati da una parte alla snellezza con cui questi una volta sistemato la parte hardware e telematica oramai i sistemi sono molto stabili noi ci siamo dotati di un sistema fra i più stabili quindi possiamo adottare questi questo sistema di convegnistica con un numero molto elevato di persone contemporaneamente registrarle e fare quello che solitamente noi eravamo abituati a fare in presenza anche se torneremo in presenza ma manterremo questa forma da remoto per l'utenza questo si è rivelato un sistema molto vantaggioso per gli evidenti risparmi di risorse sia finanziarie che di tempo e quindi continueremo anche questa modalità o questo convegno quali services e come dicevo da tanti anni noi lo teniamo sempre le fiere di Cremona lo replichiamo qualche volta in altre sedi ed è l'appuntamento di aggiornamento per queste tematiche di solito anzi sempre apre il convegno Accredia che l'ente appunto che accredita e che certifica gli enti di certificazioni quindi è un po' sopra le parti dopodiché ci tengo a dirlo questo perché è importante la sequenza quindi l'ordine dei relatori viene di volta in volta generato da un algoritmo che abbiamo dovuto generare per evitare che appunto i diversi partner enti di certificazione si trovassero una volta in una posizione una volta in un'altra che questo sembrasse legato alla importanza specifica del relatore ecco ci tengo a dire tutto questo invece è assolutamente casuale quindi l'importanza è esattamente la stessa fra tutti i relatori ringrazio gli enti di certificazione che partecipano csq agro qualità e chiua e ovviamente Accredia che apre come vi dicevo il convegno. Un'ultima segnalazione se avete al termine di ciascun intervento necessità di domande o di chiarimenti le potete fare via chat io poi le rivolgo e le riporto ai singoli relatori. Vedo già pronta la prima relatrice che è la dottoressa Stefania Escevola appunto di Accredia a cui cedo la parola per il primo intervento che la verifica da remoto ovviamente tutte le aziende hanno avuto questa necessità di legati appunto alla certificazione di passare modalità remoto anche per la parte ispettiva e questo in qualche caso ha generato dubbi e richieste particolari. Di questo parlerà appunto la dottoressa Scevola la verifica da remoto da necessità a opportunità per garantire l'affidabilità delle certificazioni accreditate. A te la parola Stefania. Buongiorno a tutti ringrazio per la parola e proprio perché apriamo questa proprio perché sono la prima relatrice di questa sessione pomeridiana vorrei trattare di un argomento trasversale che ha segnato moltissimo la realtà lavorativa oltre che personale di tutti noi da marzo dal 24 febbraio ad oggi e probabilmente diciamo rimarrà con noi anche per il futuro. Sto parlando appunto delle verifiche da remoto. Verifiche da remoto da necessità opportunità per garantire l'affidabilità delle certificazioni accreditate. Prima di iniziare a parlarvi di quello che è l'idea comune, quello che si è fatto attraverso l'audito in remoto vorrei spendere due parole per raccontarvi chi è Accredia per chi non lo conoscesse. Allora Accredia è l'ente italiano di accreditamento, è l'ente unico di accreditamento, lavora su tutto il territorio nazionale ma anche all'estero, è costituito di tre sedi principali, sede legale a Roma e specializzata si occupa dei laboratori di prova, la sede il dipartimento di certificazione di ispezione di Milano e il dipartimento che si occupa dei laboratori di taratura a Torino. Accredia ha la sua principale attività è quella di attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova e di taratura che a loro volta svolgono delle attività di valutazione della conformità nei confronti di varie aziende. Tutto questo in relazione a determinate norme o standard a tutela di imprese, istituzioni e consumatori. Accredia ha un ruolo super partes come diceva il dottor Coretta prima, quindi diciamo si colloca come vertice di una piramide di controlli in modo da andare a effettuare le proprie valutazioni in assenza di conflitto di interessi. Opera inoltre senza scopo di lucro e agisce sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Tra i soci di Accredia ci sono infatti tutti i ministeri. Accredia non agisce come ente solitario ma si colloca all'interno di un complesso network sempre di enti di accreditamento che sia a livello europeo che internazionale si sono dotati di gruppi di lavoro, chiamiamoli così. A livello europeo c'è E.A. European Cooperation for Accreditation a cui afferiscono tutti gli organismi di tutti gli enti di accreditamento europei. A livello internazionale c'è IAF, International Accreditation Forum, a cui afferiscono appunto le varie regioni mondiali di accreditamento, quindi Europa, Asia, America, Africa e così via. Attraverso questa fitta collaborazione fra Accredia e le reti e i network europei e internazionali ci si organizza e ci si armonizza su problematiche ma anche situazioni di ordinarietà che possono essere condivise e condivise quindi applicate a livello nazionale. La questione Covid è stata infatti fortemente discussa con questi due interlocutori che sono stati estremamente attivi e hanno pubblicato molti documenti che sono stati utili a tutti i livelli per effettuare le attività di valutazione in remoto. Parto da Accredia. Cosa ha fatto Accredia in questo periodo di pandemia? Allora la principale preoccupazione di Accredia è stata quella di tutelare la salute di tutti, quindi sia a livello dei propri dipendenti che a livello di tutte le parti coinvolte nel sistema di controlli, organismi di certificazione, laboratori e aziende. Di fatto nel momento in cui non si poteva effettivamente effettuare l'attività di verifica ci sono state identificate delle soluzioni alternative per cercare di contemplare tutte le difficoltà, ma assicurare la continuità del servizio. Quindi ci siamo trovati tutti quanti davanti a un binario. Bloccare le attività di controllo, in questo caso l'accreditamento, oppure cambiare le modalità di audit. Si è deciso di cambiare, cambiamento che ha coinvolto tutti trasversalmente. Ripeto, noi non ci siamo mossi in maniera isolata, abbiamo sempre lavorato insieme ai nostri cugini, colleghi europei e internazionali. Questo è l'elenco di tutti i documenti che sono stati pubblicati e sono applicabili ad oggi per la gestione dell'emergenza e non solo per la conduzione di tutte le attività fatte in remoto. Quindi abbiamo lo IAF ID3, gestione degli eventi straordinari, che è un documento informativo in cui si parla appunto, viene citata la pandemia. Lo IAF MD4, che è un documento mandatorio che specifica le modalità con cui utilizzare le ICT, cioè le piattaforme di comunicazione. Nel momento in cui si fa un audit in remoto, questo documento diventa mandatorio, deve essere utilizzato. IAF ID12, che è un documento informativo riguardante i principi delle verifiche in remoto, per lo più per l'edito di accreditamento. C'è un documento specifico pubblicato in accordo fra IAF e il GFSI. GFSI è un'associazione di commercianti che ha valore a livello internazionale e si sta muovendo per cercare di creare dei requisiti comuni e trasversali fra vari schemi proprietari, in modo tale da garantire una fiducia maggiore al mercato sui prodotti che vengono commercializzati. E quindi anche loro appunto, cioè è nata questa collaborazione, anche loro sono estremamente coinvolti in questa discussione, in questa collaborazione. Lo IAF stesso sta continuando a pubblicare, ad aggiornare sul suo sito, vi ho messo il link, una serie di risposte rapide che servono per capire e per trovare delle risposte a eventuali domande inerenti alle proprie produzioni, ad esempio la transizione alla ISO 22000 che è stata estesa fino a dicembre del prossimo anno e altre domande sempre inerenti alle attività in remoto. Accredia sta aggiornando e continua ad aggiornare una circolare e varie circolari per la gestione delle attività in remoto. In questo momento l'ultimo riferimento è la circolare numero 17 del 2020, la potete trovare sul nostro sito e poi bisogna considerare le varie decisioni ministeriali che quindi appartengono alla nostra sola realtà nazionale ovviamente. Diciamo che il passaggio, il cambiamento tra verifica in presenza e verifica in remoto non è stato scontato per niente a tutti i settori, in particolare a quello agroalimentare, però effettivamente lo IAF da subito, da marzo 2020, ha sempre detto che era possibile effettuare una verifica completamente remoto, ovviamente valutandone sempre i rischi associati e eventuali controindicazioni o indicazioni alternative. Queste indicazioni alternative, questa è una delle FAQ IAF, la question 5, la question 5 che potete trovare sempre sul sito dell'OIAF. Ovviamente queste controindicazioni e indicazioni ulteriori possono essere date dal nostro ministero oppure dagli schimoner, dai proprietari di schemi privati. Le disposizioni ministeriali riguardano gli schemi regolamentati e quindi il biologico, le DOP e i vini. Quindi diciamo che per queste attività di verifica il ministero si è espresso in un determinato modo sempre a tutela della salute pubblica, ha dato la possibilità agli organismi di certificazione di identificare delle modalità alternative per effettuare i controlli pur mantenendo e presidiando la conformità dei prodotti che venivano effettuati a livello di aziende. Per quanto riguarda invece il settore volontario abbiamo diversi schemi di certificazione standard proprietari e in questo caso ci sono state delle decisioni differenti. In alcuni casi alcuni schimoner tipo BRC o tipo FSSC hanno deciso di estendere inizialmente la validità dei certificati, mentre IFS ha deciso di sospenderla pur identificando un metodo alternativo per cercare di trasmettere al mercato l'impegno delle aziende a garantire la conformità ai requisiti IFS. All'epoca, diciamo nella prima metà della pandemia infatti questi standard che richiedono un'equivalenza al GSI non avevano la possibilità di prevedere degli auditi in remoto perché il GSI era diciamo titubante nel pensare che l'audit in remoto potesse avere le stesse garanzie di qualità e di sicurezza di un audit in presenza. Di conseguenza ci sono stati una serie di dibattiti a livello internazionale e il GSI ha rivisto la sua posizione identificando nell'audit in remoto una buona opportunità per effettuare e mantenere la continuità di queste valutazioni. Però una verifica in remoto, totalmente in remoto, per il GSI non può essere fatta, può essere parziale. Quindi questa è una una novità. È un estratto preso dal sito di GSI a seguito della pubblicazione della versione 2020 per cui effettivamente il GSI riconosce l'audit in remoto come una buona opportunità da utilizzare non solo nelle situazioni critiche o di pandemia ma anche come come futuro. Ma veniamo proprio alla pratica di come può essere gestita l'attività in remoto. Ovviamente diciamo che nella maggior parte dei casi ci sono state delle forti limitazioni all'accesso delle aziende. Ecco, c'è da ricordarsi che quando parlo di audit o verifiche parlo a due livelli. Quindi le verifiche che Accredia svolge nei confronti degli organismi di certificazione e le verifiche che gli organismi di certificazione svolgono nei confronti delle aziende. Grandi limitazioni o comunque indicazioni forti nei confronti dell'ente di accreditamento non ce ne sono. Le indicazioni che vi ho detto prima inerenti appunto ministero e schemi proprietari invece riguardano per lo più questa seconda fase quindi organismi di certificazione nei confronti delle aziende. Però in ogni caso ciò che è comune ad entrambi questi livelli sono l'analisi del rischio e l'analisi di fattibilità relative a una verifica. L'analisi del rischio perché? Perché bisogna valutare se l'azienda o se l'organismo di certificazione che richiede questa valutazione è un iniziale quindi non è conosciuto da parte di chi dovrà effettuare la verifica oppure è conosciuto rispetto alla propria attività. Dipende dallo schema perché perché questo? Perché ovviamente se si conosce già la realtà dell'azienda o la realtà dell'organismo è più semplice andare a identificare le situazioni di criticità o dare un giudizio complessivo più armonizzato o comunque più reale. Ovviamente è importante anche lo schema di certificazione perché ci sono degli schemi ad alto rischio, degli schemi meno rischiosi e anche in questo caso sia l'ente di accreditamento che l'organismo di certificazione ne dovranno tenere conto. Conoscenza dell'azienda è quello che dicevo prima effettivamente se si conoscono i processi aziendali sarà più facile a dare dare un giudizio complessivo sulla conformità e anche tempi di frequenza nel senso che se io quell'azienda non la vedo da tre anni oppure non la vedo da un anno o sei mesi sicuramente dovrò ponderare il rischio associato in maniera diversa. Analisi di fattibilità è diversa dall'analisi del rischio poiché proprio coinvolge tutte quelle attenzioni per far sì che la verifica fatta da remoto sia efficace nella valutazione e quindi disponibilità di un'infrastruttura necessaria. Ad esempio esiste un computer, esiste un sistema per visualizzare le aree di produzione, che tipo di supporto piattaforma viene utilizzata, se c'è una connessione internet adeguata, quindi tutta una serie di accorgimenti importanti per far sì che l'audit possa svolgersi in maniera completa. Accessibilità delle registrazioni della documentazione, ovviamente se è cartacea la documentazione si farà più fatica, ci vorrà più tempo, se invece è tutto telematico sarà sicuramente più veloce e se si è dotati di un computer si può condividere lo schermo ancora meglio. Disponibilità degli interlocutori, ovviamente ci deve essere sempre qualcuno con cui potersi interfacciare sia responsabili aziendali che personale che viene coinvolto nelle attività. L'esito di questa valutazione può essere variabile perché in questo caso a seguito di come è andata effettivamente la verifica e se l'infrastruttura di telecomunicazione è arretto o meno potremmo dare un giudizio completo o parziale. Nel caso fosse parziale sarà necessario effettuare un'ulteriore attività supplementare per diciamo raggiungere l'obiettivo. Ecco qui semplicemente vado a ribadire quanto già detto sia questa infrastruttura detta ICT o comunque tecnologia per l'informazione e la comunicazione può essere varia. Nella mia esperienza personale stiamo utilizzando moltissimo come computer, la telecamera del computer piuttosto che il cellulare e anche le videochiamate sono diciamo gli strumenti che noi stiamo utilizzando in assoluto attraverso computer palmari o tablet. Il drone è anche un altro strumento che sta diventando molto importante sia a livello EA che EAF. Si stanno sviluppando dei documenti, ci sono delle task force per cercare di sviluppare dei documenti che identifichino in che modo possono essere utilizzati questi strumenti in maniera efficace ed efficiente. Tirando un po', dando qualche numero, al momento a Credia diciamo nel quadrato nero c'era una situazione iniziale legata alle attività di verifica a remoto fatte da Credia fino a giugno, da quando è iniziato il periodo di pandemia fino a giugno 2020. Ad oggi che siamo quasi a fine anno possiamo dire che a Credia chiuderà l'anno avendo completamente cambiato il suo modo di lavorare e con il 75% di verifiche fatte in remoto. Questo in generale. Per quanto riguarda il settore agroalimentare al 3 dicembre le verifiche in presenza sono state il 55% e quelle da remoto invece sono state il 45%, intendendo sia le verifiche fatte presso le sedi degli organismi di certificazione che quelle in accompagnamento, cioè affiancando l'organismo di certificazione nella sua attività in azienda, presso le aziende certificate. Quindi direi che i numeri sono molto alti e rispetto all'inizio che effettivamente c'era stato un vortice, un cambiamento così vorticoso per cercare di identificare una soluzione alternativa. Adesso questa soluzione alternativa è ben radicata e sicuramente è stata la scelta, la prima scelta anche in questi ultimi mesi. ma quali sono gli vantaggi e se ci sono degli svantaggi? Avevo fatto una presentazione su questo argomento anche prima dell'estate e ho dovuto cambiare le slide proprio perché alla luce di questa esperienza sicuramente posso dire qualcosa di più. Allora sicuramente il vantaggio principale è che c'è un azzeramento dei rischi per la salute e per la sicurezza perché le persone non si incontrano e di conseguenza non ci può essere trasmissione del virus. Sicuramente abbiamo dei vantaggi dal punto di vista dell'efficienza del processo di audit e degli aspetti organizzativi. Efficienza del processo di audit perché? Perché eventualmente per gli organismi di certificazione la direzione può partecipare all'attività di verifica. Il responsabile di schema anche perché ci si focalizza maggiormente sui contenuti, perché si può diciamo scambiare con più attenzione, perché c'è un maggior comfort ambientale ognuno nel proprio ambiente quindi non si deve spostare. E sempre per lo spostamento c'è un'ottimizzazione dei tempi perché non si effettuano gli spostamenti e anche perché alcune verifiche potrebbero essere imposti lontani fra loro e quindi i tempi di viaggio e di spostamento sono proprio annullati. Gli aspetti organizzativi, versatilità nella composizione dell'audit team perché spesso si seleziona un ispettore anche in funzione della localizzazione geografica, quindi se è più vicino a quella sede di verifica si seleziona quello per evitare costi e tempi esagerati, in questo caso si può ampliare il parco ispettore e poi ovviamente risparmi di tempi e costi per il viaggio. Questi sono i principali vantaggi. Ci sono comunque alcuni aspetti più critici o comunque da migliorare. Allora sicuramente aspetti tecnologici possono essere migliorati. La connessione, a volte il wifi non funziona, quindi sarà capitato a tutti e ci si trova in difficoltà. Magari proprio quando c'è una verifica o c'è un'attività da svolgere, il wifi non va. Accessibilità delle informazioni, tutto deve essere caricato in formato digitale e se ci sono dei documenti cartacei ci deve essere la possibilità di trasferirli comunque in formato digitale. Sicurezza delle informazioni, bisogna proteggere tutto con delle password e comunque sia anche a livello di accredia ma anche gli organismi di certificazione hanno sviluppato dei moduli da sottoscrivere per la sicurezza delle informazioni che vengono acquisite durante le attività di verifica. L'ambiente di lavoro non aziendale ovviamente se si è a casa ci possono essere delle intrusioni nella sfera privata. Io non ho figli però effettivamente può capitare che ci sia una richiesta, mamma mi porti questo, piuttosto che varie eventualità che vi saranno sicuramente capitate se avete fatto delle attività in remoto. visione degli ambienti in cui si svolgono le attività dipende dalla disponibilità della tecnologia utilizzata nel senso che bisogna cercare di utilizzare un ICT, uno strumento che permetta la visualizzazione di tutto il processo produttivo in una maniera quanto più precisa. Quindi non ci devono essere delle aree che risultano oscure. Questo mi rendo conto che sia, ci rendiamo tutti conto che sia una criticità o comunque un aspetto da dover presidiare molto bene. Invito tutti a trovare delle alternative o delle strategie nella propria realtà per cercare di supportare questo aspetto. e le relazioni interpersonali che sono estremamente importanti poiché la realtà è filtrata, manca la comunicazione non verbale. A me è sempre stato detto che la comunicazione è al 60 per cento, 80 per cento non verbale. Adesso invece dobbiamo focalizzarci completamente su ciò che viene comunicato a voce, perché altri atteggiamenti non possono essere percepiti. Il feedback che abbiamo avuto, il maggior feedback è stato che tutte le attività in remoto sono molto impegnative, richiedono uno sforzo, una concentrazione molto maggiore rispetto alle attività fatte in presenza. Probabilmente perché non si riesce a fare uno scambio di altro tipo, piuttosto che non c'è neanche una pausa, per dire uno scambio, non so, una pausa caffè o altro. In questo caso non è possibile, quindi bisogna stare concentrati su un monitor per tante ore e questo risulta parecchio stancante. Però l'audit in remoto ormai è diventato parte della quotidianità, quindi non si torna indietro. Sicuramente si dovrà integrare anche in una futura realtà normale, normalità. Gli auditi in remoto quindi si stanno pensando non solo come alternativa per l'emergenza covid-19, ma anche nel futuro. Cosa c'è da fare? C'è tanto lavoro da fare. Prima di tutto le criticità di cui abbiamo parlato prima bisognerà presidiarle e trovare delle alternative. I vari standard, quindi gli schemi proprietari, ma anche i ministeri, anche noi come accredi agli organismi di certificazione dovranno modificare il loro approccio, recepire meglio, sempre meglio il nuovo metodo. Ancora non siamo completamente, non abbiamo ancora elaborato tutti i rischi e tutte le perplessità che possono essere correlate a questo tipo di attività. Bisognerà modificare i contratti con i clienti e con gli ispettori prevedendo anche questo tipo di attività remota. Bisogna capire come diminuire il rischio di allontanarsi troppo dal cliente fino a rischiare di perderlo. Perché? Perché manca la relazione personale che è importantissima. Come ho detto fin dall'inizio, IAF sta organizzando, è attivissimo, sta organizzando una task force, anzi la task force è già attiva, sta preparando un documento proprio per rispondere a queste domande che ci siamo appena fatti e per pianificare le attività future. Accredia, singolarmente a livello nazionale, è d'accordo con ritenere le attività da remoto molto utili. Sicuramente nel momento in cui questo covid andrà a sparire, si tornerà a una normalità, però le verifiche in remoto lasceranno il segno, perciò probabilmente si instaurerà un'alternativa che saranno le verifiche miste, parzialmente remoto, parzialmente in presenza. Bisognerà capire bene come regolamentarle. Sicuramente noi a Accredia stiamo lavorando da remoto dall'inizio della pandemia e ci incontriamo molto spesso in riunioni fatte in videoconferenza. Sicuramente dovremo continuare a pubblicare delle linee guida, perciò vi invito a controllare il sito di Accredia, dopo ho messo una slide effettivamente per farvi vedere dove esattamente. Bisognerà definire meglio come gestire gli ispettori, quindi formazione, monitoraggio, distanza, eventuale qualifica, ex novo, sempre attraverso gli auditi in remoto. E poi bisognerà approfondire meglio, dare delle indicazioni più chiare per quando effettuare l'auditi in remoto, quando è il caso, quando assolutamente non è il caso. Sempre per i due livelli, quindi verifiche fatte da Accredia e verifiche fatte dagli organismi di certificazione. Prevedendo anche delle eventuali difficoltà, come ad esempio, se si pensa alla distanza, sicuramente fare una verifica a distanza, una verifica in Cina, sicuramente si pensa che sia il top effettuare la verifica da remoto. Può essere vero, bisogna valutare la connessione. Ad esempio, abbiamo avuto esperienza in Africa che, prevedendo pure una verifica fatta in remoto, in realtà la connessione era molto debole, perciò la verifica non è stato possibile farla. Quindi valutare tutte queste variabili. Accredia, sempre per cercare di rispondere a questa esigenza di telematizzazione, ha previsto, sta modificando i certificati di accreditamento e non li renderà più cartacei, ma saranno telematici, con un QR code e sarà possibile visualizzare da tutto il sistema, tutti i aziende, organismi di certificazione, effettivamente usando il QR code sarà possibile verificare la veridicità del certificato di accreditamento. Questa invece è la pagina di Accredia, su cui stiamo aggiornando tutte le varie disposizioni che pubblichiamo, perciò vi invito a tenerla sotto controllo. Con questo slide concludo. Mi piaceva l'idea dell'evoluzione della food safety, quindi dalla scimmia fino a diventare uomo erectus per poi ripiegarsi di nuovo davanti a un computer. Diciamo che adesso siamo nella fase fra il penultimo omino e l'ultimo omino. Personalmente spero di ritornare bella retta. Invece l'altra foto di destra che fa vedere un drone che ha la forma di un cane. Quindi effettivamente ci sono anche queste immagini per cui c'è la sostituzione di quello che è anche l'animale domestico. Sicuramente sono cose molto interessanti, sicuramente è il futuro. Bisogna tenerlo in considerazione e regolamentarlo, però non dimentichiamo il valore della relazione interpersonale. Vi ringrazio. Ho finito. Grazie, grazie dottoressa Scevola. Grazie per le slide e quanto dibattuto. Sarebbe interessante che Accredia proponesse uno standard per organizzare da remoto tutte le verifiche o tutte le parti interlocutori. Così come a livello universitario esistono anche, sotto universitario, esistono dei software per la verifica della prontezza degli studenti, della loro presenza non solo fisica ma anche intellettiva e anche in fase di esame. Quindi potrebbe essere interessante verificare con Accredia la possibilità di uno sviluppo di un software così. Tra l'altro aggiungo che è ovvio che ci deve essere sempre una linea, una linea internet quantomeno significativa fra le parti, ma anche questa potrebbe far parte dello standard di cui dicevo io. E da ultimo, Accredia può entrare, potrebbe entrare, così come si fa regolarmente a livello telematico, nel pc dell'utente in corso di verifica per poter acquisire direttamente senza passare appunto dall'utente, una volta firmato tutto il completo dossier di privacy, entrare direttamente senza passare dall'utente, dicevo. Allora, intanto grazie per la domanda. Il primo spunto è molto interessante ed effettivamente noi stiamo predisponendo un documento per cercare di fare delle valutazioni del rischio uniformi su tutti gli organismi di certificazione, in modo tale che la valutazione possa essere ripetibile. Questo sì. Quando parli di software, non so esattamente cosa, schema di certificazione, non so cosa tu intenda, perché noi non siamo scheme owner, non facciamo schemi di certificazione, però sicuramente possiamo e faremo una valuta, un documento per valutare in maniera uniforme e trasversale gli organismi di certificazione e questo è una. La seconda tua richiesta invece è la possibilità di accedere alla banca dati degli organismi di certificazione. Allora, noi possiamo accedere nel momento in cui la banca dati è pubblica, facciamo un accesso diretto, ci interfacciamo con gli organismi di certificazione se la banca dati è privata e da convenzione loro ci trasmettono le informazioni che ci interessano. Delle forzature all'interno del loro sistema, poiché è coperto da privacy, questo al momento non è possibile. Bene, grazie. Vedo che non ci sono domande in chat, quindi tutto estremamente chiaro come sempre. Grazie ancora. Chiederei ai prossimi relatori di restare nei tempi stabiliti. Ora è la volta della dottoressa Pinton, a cui ho già ceduto i privilegi per poter condividere. Ciao, buongiorno. Ecco, Stefania Pinton è di CSQA, ovviamente un ente di certificazione fra i più importanti, assieme agli altri che vedremo nel proseguo. L'intervento parla della gestione del rischio epidemiologico, il servizio di gap analysis, quindi cominciamo a entrare in uno degli strumenti operativi. A te la parola. Buongiorno a tutti, sono Stefania Pinton e lavoro per la CSQA che, come ha già anticipato il dottor Porretta, è un ente di certificazione che quest'anno ha compiuto i 30 anni e che è specializzato nel settore alimentare. È stato praticamente il primo ente accreditato nel settore food dall'allora Sincert, oggi Accredia. È stato il primo ente ad essere riconosciuto dal Ministero nelle certificazioni dei prodotti DOP IGP e ad oggi è il primo ente per numero di prodotti controllati. Diciamo che nel tempo la nostra attività si è allargata e oltre al settore agroalimentare e il near food, diciamo, abbiamo, ci occupiamo anche del settore legno e foreste, del settore informatico e del settore servizio alla persona e responsabilità sociale, che è il settore che seguo in modo più diretto. La nostra attività si esplica in attività di certificazione, di ispezione, di innovazione, cioè andiamo a creare standard nuovi laddove intercettiamo una richiesta del mercato e di formazione soprattutto alle aziende. Lo standard che, scusate, abbiamo sede in tutta Italia e anche negli Stati Uniti e in Polonia. Lo standard che vi propongo oggi, l'attività che abbiamo messo a punto a seguito della pandemia, fa proprio parte dell'attività di innovazione. Sostanzialmente all'inizio, a fine febbraio, primi di marzo, quando la vita di tutti noi è cambiata, abbiamo ricevuto più input e abbiamo visto che era tutto diverso, improvvisamente era tutto diverso nella nostra vita privata, nelle relazioni tra le persone e anche nel mondo del lavoro. Ci siamo focalizzati sul mondo del lavoro perché siamo un'azienda obiettivamente. Abbiamo cercato di parlare con i nostri clienti, abbiamo talvolta stimolato il confronto, talvolta siamo stati chiamati ad avere un confronto con loro perché sostanzialmente le imprese erano tirate, diciamo, da due necessità. Da un lato la necessità di dar continuità alla produzione, di continuare ad erogare il servizio. Vi ho anticipato prima che noi siamo presenti soprattutto nel food, quindi i nostri interlocutori sono stati principalmente imprese food, un settore in cui l'attività produttiva è praticamente continuata durante tutto l'anno con delle modifiche per carità, però tutto sommato non ci sono state grosse interlocutori. E quindi c'era la necessità di continuare ad essere produttivi, ma dall'altro canto c'era la necessità, la volontà di garantire sicurezza nel luogo di lavoro al proprio personale. E vi posso garantire che questa era un'esigenza molto forte delle aziende, che è venuto fuori proprio il loro, la loro senso di responsabilità anche verso i dipendenti, non solo per obbligo di legge. Quindi, oltre a questi, queste due macro aree che vi ho anticipato, la necessità era quella di essere operativi riorganizzando in fretta l'azienda. Chi faceva servizi ha dovuto pensare alla modalità, modalità alternative, a distanza, nelle produzioni sono state organizzate squadre che lavoravano in tempi separati. Quindi si è riorganizzata completamente tutta l'azienda. E a lato c'era comunque la necessità di gestire una mole di dati legati alla privacy e legati alla persona. Tutti i dati sanitari inizialmente non si sapeva come gestirli, che dichiarazioni far compilare al personale, come tutelare comunque la privacy dell'eventuale dipendente che risultasse positivo. E tutte queste novità e la necessità appunto di mettere in ordine queste tutte novità, ha anche lo scopo di tutelare gli amministratori in ottica anche della 231. Allora, ci siamo appunto, questo è un po' il panorama in cui ci siamo trovati a parlare con le aziende. E chiedevano a noi di essere partner nel trovare una soluzione di tutto questo stato di confusione, di aiutare, di aiutarli a fare ordine. Io vi dico, la posizione di CSQ è stata inizialmente molto scettica perché si voleva evitare di pensare ad un servizio da vendere, quindi ad un prodotto, quello che all'inizio era veramente un momento molto drammatico per tutti e in cui l'emotività era molto forte da parte di tutti. Successivamente, razionalizzando un pochino, abbiamo convenuto sul fatto che potevamo effettivamente offrire uno o più strumenti alle organizzazioni per aiutarli in questo momento di difficoltà a fare ordine, a strutturarsi e a rispondere alle richieste del momento. E quindi abbiamo pensato ad un servizio di gap analysis. Per chi non è addetto ai lavori, la gap analysis è sostanzialmente una valutazione a fronte spesso di una checklist che va proprio a vedere cosa c'è già in azienda e cosa manca al fine di essere conformi ad una determinata regola, che può essere una determinata richiesta cogente oppure una norma internazionale. Quindi il nostro lavoro è stato quello di mettere a punto delle checklist specifiche che guidassero le organizzazioni a capire il loro stato, a valutare come potevano migliorare le loro performance. L'obiettivo è sempre stato quello di aiutare le organizzazioni a migliorarsi, a colmare le lacune mettendole in luce. Quali sono appunto nello specifico gli obiettivi di qualsiasi gap analysis? Sono quelle di identificare il proprio livello di conformità rispetto ad una norma cogente o non cogente di riferimento. È anche quella di ricevere una valutazione rispetto all'adeguatezza e all'efficienza dei codici di condotta che ci si è dati, una valutazione da parte di auditor con un profilo adeguato a valutare determinati aspetti. Inoltre la gap analysis ha come obiettivo quello di identificare come l'organizzazione si colloca rispetto al tema, per capire proprio qual è lo stato di conformità, cosa manca, per capire quali interventi, quali azioni mettere in atto per gestire le eventuali non conformità. Il nostro lavoro si è strutturato sostanzialmente mettendo in piedi quattro pilastri della gestione del rischio. Abbiamo focalizzato l'attenzione su quattro macro aree. La prima è legata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la seconda è legata alla pulizia e sanificazione, la terza è legata alla continuità operativa e la quarta è legata alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati. Il primo pilastro, ve li riassumo molto in fretta, tanto sono abbastanza ovvi, il primo pilastro legato alla salute e alla sicurezza ha come obiettivo proprio quello di valutare la conformità dell'organizzazione rispetto alle normative applicabili in materia di salute e sicurezza, anche con uno sguardo specifico rispetto al rischio legato al contagio da Covid. Sostanzialmente la difficoltà e la bontà di questo lavoro risiede nel fatto che la normativa in merito a salute e sicurezza è molto frammentata, legata anche a... ci sono molti strutture che emanano a disposizione e anche a livello territoriale abbiamo avuto una frammentazione delle indicazioni rispetto a queste tematiche, a livello territoriale e a livello di categoria di produzione. Le aree di indagine che abbiamo individuato sono sostanzialmente quelle elencate in questa slide e nella successiva e sono proprio legate al processo e all'ingresso del lavoratore in azienda, alla pulizia in modo abbastanza generico rispetto al secondo pilastro, alle precauzioni igieniche e alle distanze, alla gestione degli spazi comuni, l'organizzazione dell'azienda, quindi come sono stati organizzati i turni e come sono state le indicazioni che sono state date in merito alle trasferte, allo smart working e alla gestione di eventuali casi di personale sintomatico. Il secondo pilastro che abbiamo invece individuato è quello legato ai servizi di pulizia e sanificazione ambientale. Questo pilastro è stato sviluppato in modo più corposo, nel senso che abbiamo anche redatto un documento privato di proprietà di CSQA utile alla certificazione, ma l'abbiamo strutturato anche come servizio di capoanalisi. Questo pilastro affronta proprio il tema di come effettuare le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti. Inizialmente è stato pensato per le strutture che accolgono utenti, quindi soprattutto per le strutture che offrono servizi. Si pensi alle scuole, agli alberghi, agli ristoranti, ma poi il suo sviluppo è stato anche rispetto a imprese di produzione che comunque devono gestire ambienti che sono utilizzati in modo comunitario dai propri dipendenti. I punti chiave che abbiamo individuato sono legati alla definizione e all'attuazione della pulizia, che è la rimozione dello sporco visibile, ma anche della sanificazione ambientale, cioè l'abbattimento della carica batterica e dei virus. Abbiamo poi focalizzato l'attenzione sull'adozione di prodotti specifici, prodotti che vanno bene e prodotti che non vanno bene per la pulizia e alla definizione di procedure in grado di standardizzare le attività di pulizia per assicurare un'efficacia della stessa ripetibile verificata. E verificata come? attraverso dei tamponi, quindi attraverso delle analisi di laboratorio che vadano a cercare non solo il Covid, ma anche altre tipologie di indicatori del grado di pulizia. Come vi ho detto, vi ho anticipato, questa attività si rivolge sia alle imprese che sono imprese di pulizia, quindi che hanno come loro il loro core business l'erogazione di servizi di pulizia, ma anche alle imprese che in qualche maniera effettuano le pulizie improprio. Pensiamo alle palestre talvolta, ai bar, ai piccoli negozianti. I principi chiave sono la valutazione del rischio biologico, ossia ci aspettiamo di trovare una valutazione della probabilità di trovare contaminanti sulle superfici dure, sui bocchettoni di areazione dell'aria e anche nella fornitura idrica. L'altro livello e l'altra richiesta che facciamo è l'adozione di un codice di comportamento, ossia di andare ad individuare le buone prassi di igiene, sia per chi pulisce, sia per chi utilizza degli spazi comunitari. E poi altro elemento molto importante è la comunicazione costante del livello di rischio presente in un determinato ambiente a tutte le persone che utilizzano l'ambiente. Il terzo pilastro su cui abbiamo creato una checklist è legato alla continuità operativa. Ci siamo basati sostanzialmente sulla norma ISO 22301, che è specifica per la business continuity e che consente sostanzialmente all'organizzazione di dotarsi di strumenti di prevenzione e di resilienza, diciamo, in grado di affrontare e rispondere in modo tempestivo agli imprevisti. Il quarto pilastro invece è stato focalizzato sulla sicurezza delle informazioni e sulla protezione dei dati, proprio perché durante questa fase emergenziale le aziende si sono spesso trovate a gestire dati delicati legati proprio alla salute dei propri dipendenti. Il risultato della gap analysis, come avete immaginato, non è un certificato, ma è una fotografia, un report che caratterizza le aree di forza dell'organizzazione e le aree di debolezza, dove c'è ancora da lavorare. Un'organizzazione può scegliere quale pilastro sia il più critico per la propria realtà e scegliere di farsi, diciamo, fotografare solamente per determinate tematiche e non su tutte. È sicuramente una base di partenza utile per capire quali interventi mettere in atto per migliorare e per dare una priorità agli interventi necessari. Dal punto di vista pratico, segnalo che le aziende che finora hanno scelto questo servizio l'hanno fatto in parte su richiesta del loro cliente, in altri casi in quanto partecipando a bandi emanati da pubblica amministrazione hanno utilizzato questi report per dare dimostrazione del lavoro svolto sulla gestione di questo rischio epidemiologico. Al momento io ho finito, se c'è qualche domanda sono a disposizione. Grazie, molte grazie Stefania per la delucidazione e anche per il tono, veramente un tono molto relax. Grazie, complimenti anche per come l'hai esposta. Ho dimenticato di dirvi, o forse ve l'ho detto e non lo ricordo io, che nelle prossime settimane riceverete una newsletter dedicata. Questo seminario, così come gli altri, quello di oggi e quello di domani, che segnalo alle 10, MIT.it, saranno resi disponibili anche on demand, per cui se volete rivederli o salvarli per qualsiasi vostro delucidazione, ecco qua, vediamo, grazie, vorrei chiedere come CSQA, vorrei chiedere se come CSQA verrà previsto un corso di formazione sugli audio di riammolo. Vabbè, questo ve lo chiedete poi in separata sede, non è questa la sede opportuna per promuovere attività. Bene, allora, grazie ancora Stefania Pinton di CSQA. E ora la volta del dottor Alessandro Gullo di Agroqualità, già Rina, a cui ho già ceduto la possibilità di condividere le slide. Buongiorno a lei, dottore. Il dottor Gullo ci tratterà, quindi credo che, forse, me lo auguro, sarà fuori dalla pandemia per un attimo e ci parlerà dell'efficacia delle certificazioni volontarie di prodotto e il loro contributo a uno sviluppo sostenibile. Quindi il tema qua è più sulla sostenibilità. Verifichiamola. A lei la parola, dottor Gullo. Grazie, grazie. Grazie, professor Porretta. Buongiorno a tutti. Anzitutto ringrazio per l'invito a questo importante momento di incontro e informazione. Io mi chiamo Alessandro Gullo, sono responsabile commerciale di Agroqualità, società del gruppo Rina, che opera a livello globale come UDC, specificatamente nel settore agroalimentare, erogando sostanzialmente tutti i servizi di certificazione specifici per il food, ma chiaramente anche i servizi di certificazione trasversali. In questo contesto argomenteremo appunto, come anticipato dal professore, alcuni temi riferendoci all'efficacia delle certificazioni volontarie di prodotto in ottica appunto di sostenibilità e al contributo che possono avere per uno sviluppo sostenibile. Partendo quindi da quello che si intende per sostenibilità e sviluppo sostenibile, quindi lo sviluppo volto a soddisfare i bisogni della generazione presente, senza però compromettere la capacità delle generazioni future di far fronte ai loro bisogni. Basandosi questo sul modello che l'Unione Europea ha presentato, quindi il modello dei tre pilastri della sostenibilità, declinandoli in economico, ambientale e sociale. Si è passato quindi soprattutto negli ultimi anni a identificare il concetto quindi di sostenibilità come un bisogno reale e necessario. Per cui si passa da un sarebbe auspicabile avere a un dobbiamo avere, dobbiamo impegnarci ad avere. Sostanzialmente questo perché la sostenibilità è sempre più un fattore discriminante per il successo internazionale. Diversi stakeholder tradizionali e non mettono sempre più pressione sull'etica aziendale e parallelamente il contesto normativo internazionale sta cambiando rapidamente. In questa ottica possiamo anche tra l'altro dire che nel comparto agroalimentare i requisiti di sostenibilità oggi sono sempre più presenti sia negli stadi aziendali che nei capitulati di fornitura della GDO. Facendo un rapido scurtro sul contesto internazionale ed europeo su queste tematiche, partiamo dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 92, passando per il protocollo di Kyoto all'accordo di Parigi, fino ad arrivare ad un momento importante in cui nel 2015 l'organizzazione delle Nazioni Unite ha definito gli obiettivi di sviluppo sostenibile come acronimo SDG che rappresentano una serie di 17 obiettivi interconnessi definiti proprio dall'ONU come strategie per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Questo è conosciuto anche come Agenda 2030 da qui fino al momento attuale in cui l'Europa va a definire quello che è l'European Green Deal. Il Green Deal europeo mira a migliorare il benessere delle persone rendere l'Europa climaticamente neutra e proteggere il nostro abito naturale quindi come interconnessione tra persone, pianeta ed economia. L'UE intende finanziare le politiche stabilite nel Green Deal attraverso un forte piano di investimenti e di erogazioni di fondi a supporto si stima che tra il 2020 e il 2030 vengono stanziati tra i 260 miliardi di euro all'anno per poter perseguire quelli che sono gli obiettivi stabiliti nell'accordo. Il Green Deal prevede una serie di piani di azione tra le azioni previste appunto per diversi settori politici noi ritroviamo le strategie biodiversità e farm to fork la strategia dal produttore al consumatore quello che è un po' al centro del Green Deal affronta in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili sostanzialmente il Green Deal determina il ruolo che l'agricoltura in generale e il sistema agroalimentare possono svolgere nel lungo percorso di lotta ai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda tra gli obiettivi di sostenibilità fissati dalle strategie UE c'è ad esempio l'aumento del 25% della superficie d'agricoltura bio entro il 2030 quindi anche confermando l'integrazione tra le attività economiche e protezione degli ecosistemi una tendenza in linea con le direttive della commissione UE che prevede appunto l'obiettivo di dimezzare pesticidi ad antibiotici entro il 2030 questo si può vedere come opportunità da cogliere perché si rispecchiano le necessità di incentivi campagne di informazioni e nuovi stimoli per il mercato per il sostegno per un piano per la conversione al biologico dei traditi Il recente lockdown poi facendo una piccola parentesi in relazione a quello che è l'attuale pandemia l'attuale emergenza sanitaria possiamo dire che ha fatto esplodere oltre che l'e-commerce anche la richiesta di cibo minitile sostenibile scelto dal 20% degli italiani il bio tricolore ha catalizzato all'attenzione del 30% della clientela non user quindi abitualmente che non sono abitualmente utilizzatori l'obiettivo quindi è quello di promuovere le filiere del made in Italy biologico sostanzialmente come booster come booster della nuova ripresa economica l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che è stata sottoscritta a settembre 2015 dai 193 paesi dell'ONU quindi fissa i 12-17 obiettivi articolati in 169 target e in questo contesto la standardizzazione e la valutazione della conformità rappresentano quindi pilastri delle dimensioni dello sviluppo sostenibile economica, ambientale e sociale le imprese sono sempre quindi più chiamate a dare evidenza del loro impegno al raggiungimento degli obiettivi e questo mezzo il mezzo a questo perseguimento può essere rappresentato proprio dagli standard dei sistemi di certificazione che sono i metodi più rilevanti a diffondere le pratiche sostenibili trasformare i settori di business strumenti che le imprese adottano per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo e dando evidenza degli stessi qui si apre il mondo delle certificazioni ad oggi realmente non esiste uno standard certificabile che racchiuda i criteri di sostenibilità nel complesso quindi ambientale, etica ed economica ma esistono diversi standard di applicazione volontaria che considerano diversi aspetti di sostenibilità e testimoniano l'impegno aziendale nel perseguire questi obiettivi ne tratteremo poi di fatto alcuni in prima battuta consideriamo che le attività legate alle produzioni agricole impattano sull'ambiente e quindi sul clima ecco perché a fine di comprendere quanto quelle produzioni siano compatibili con il concetto di sostenibilità si è sviluppato l'interesse di strumenti e metodologie per stimare le emissioni di CO2 consumi di acqua e di altri parametri parliamo sostanzialmente di impatto ambientale quindi di impatto che hanno le varie attività anche antropiche sull'ambiente per valutare per valutare gli impatti che si che si hanno si effettuano studi di life cycle assessment quindi di LCA per i quali tra l'altro lei ha predisposto la norma tecnica 14.040 che è stata entrata in vigore nel 2006 sostanzialmente la LCA è un procedimento oggettivo di valutazione degli impatti energetici ed ambientali relativi a un prodotto a un processo o di una attività questa valutazione include l'intero ciclo di vita del prodotto comprendendo l'estrazione il trattamento delle materie prime la fabbricazione il trasporto la distribuzione l'uso il riuso il riciclo e lo smaltimento e lo smaltimento finale principalmente carbon e waterfront print questi fiedini che vediamo insomma rappresentano quelle che sono le impronte ambientali dalla necessità quindi di stimare l'impatto che si ha sulla che un prodotto un servizio può avere su uno o più componenti durante il ciclo di vita nascono appunto le impronte ambientali le prime impronte ambientali che si sono sviluppate per valutare a livello globale la significativa di impatto che hanno sono state proprio la carbon footprint e la water footprint quindi l'impronta di carbonio e l'impronta e l'impronta d'acqua l'impronta di carbonio perché i diversi alimenti chiaramente contribuiscono in modo diverso in funzione dei quantitativi consumati che delle modalità di coltivazione o di allevamento all'eventuale lavorazione e l'eventuale lavorazione al riscaldamento globale per quanto riguarda invece l'impronta d'acqua perché il consumo di acqua è calcolato in tutte le fasi della produzione dagli alimenti stessi dalle loro origini fino all'arrivo sulle nostre tavole quindi agricoltura trasformazione industria e così via per valutare la carbon footprint di un prodotto è stata sviluppata la norma tecnica la 14.067 requisite e linee guida per la quantificazione e comunicazione in vigore dal 2014 questa è un'etichetta volontaria sostanzialmente è il modo di comunicare quello che è l'impegno aziendale in riferimento a quello che è l'impatto che ha il suo processo prodotto per una produzione qui si fa l'esempio di un bicchiere di vino dove si comunica che per una bottiglia di vino quindi per produrre 750 ml di vino si è avuto un'impronta di 2 kg di CO2 in mese l'impronta di acqua invece rappresenta il quantitativo di acqua dolce da parte di un singolo di una comunità di un'azienda mobilizzato inquinato il calcolo prevede tre fasi quindi la quantificazione e localizzazione dell'impronta idrica di un prodotto di un processo in un determinato periodo la valutazione della sostenibilità ambientale sociale ed economica dell'impronta idrica e le individuazioni delle strategie di diluzione della stessa come si calcola per calcolare la waterfront è necessario tenere conto di tre tipologie di risorsa idrica acque superficiali quindi green waterfront e le acque superficiali sotterranee prelevate per produrre un bene o un servizio le acque meteoriche soprattutto in relazione all'uso in rigo insomma in particolare si fa l'impronta a quello e la green waterfront cioè l'acqua inquinata è stimata come il quanto di rigo di acqua necessario diluire gli inquinati fino a un determinato limite previsto è un indicatore abbastanza complesso che comunque dà evidenza di quello che è anche l'attività antropica sulla risorsa idrica la verifettoria dell'astimo del waterfront è stata sviluppata anche qua una norma tecnica che nel caso specifico è la 14.046 gestione ambientale impronta idrica che è stata che è entrata in vigore nella sua ultima versione del 14 aprile del 2016 un altro esempio di applicazioni di standard sostenibile c'è dato dalla vitivinicoltura sostenibile questo è un comparto molto sensibile negli ultimi anni a queste tematiche un Viva che è questo che qua vediamo è un progetto del Ministero dell'Ambiente che nasce con lo scopo di misurare e migliorare le performance di sostenibilità della filiera vite e vino lo standard detta delle linee guide e dei requisiti da rispettare quindi le aziende grazie all'individuazione di quattro indicatori principali quindi aree acqua territorio e vigneto hanno la possibilità di effettuare un'autovalutazione dell'impatto della loro produzione in termini chiaramente di sostenibilità ambientale questo fornisce all'azienda insomma chi applica il protocollo questo standard chiamiamolo così uno strumento intanto che sia in grado di valutare la performance aziendale e aziendale per quanto riguarda la gestione dell'ambiente del vigneto includendo quindi anche indicatori economici ed ambientali d'altra parte fornisce al consumatore uno strumento per attuare un acquisto consapevole verso quei prodotti realizzati da aziende attente alle loro performance in termini di ambiente la comunicazione quindi come detto diventa insomma anche qua importante aiuta chiaramente a sopportare quello che è una scelta consapevole altri esempi è The Qualitas sempre nel campo del vino sostenibile The Qualitas nasce nel 2015 da un'iniziativa di Federdoc e di Unione Italiana Vini raccoglie quella che appunto le vittà tecniche culturali di un movimento di stakeholders che si è riunita appunto ad approcciare a tematiche insomma sulla sostenibilità del vino e anche anche qua i qualitas affronta la sostenibilità secondo i tre pilastri sociali ambientali ed economici per ciascun pilastro sono stati definiti requisiti ed indicatori verificabili e misurabili per cui in relazione alla sostenibilità ambientale ci sono tre principali indicatori in relazione alla biodiversità all'impronta carbonica appunto e all'impronta idrica in relazione alla sostenibilità social-ambientale e buone pratiche agricole quindi gestione del suolo gestione della fertilità l'irrigazione gestione della difesa gestione della pianta ottimizzazione dei trattamenti gestione della biodiversità e le buone pratiche di cantina e imbottigliamento quindi le classiche buone prassi a partire già dalla raccolta fino alla vinificazione dell'imbottigliamento e alla detersione e al packaging e alla pulizia dei locali e delle attrezzature relativamente alla sostenibilità sociale quindi il pilastro sociale prende in considerazione i lavoratori quindi i diritti dei lavoratori l'organizzazione e la promozione e la promozione per le pari opportunità e il lavoro per i giovani il welfare ad esempio discriminazione e poi per quanto riguarda la formazione quindi un piano di formazione del personale e una condivisione della formazione quindi in base alle necessità del lavoratore e anche le relazioni con il territorio per quanto riguarda la sostenibilità economica ci sono appunto le buone pratiche economiche aziendali verso i dipendenti verso i fornitori quindi controllo di gestione dimostrazione degli investimenti quindi in ottica di sostenibilità e di reinvestimento a fronte del supporto agli approcci e dei criteri di sostenibilità le buone pratiche economiche verso i dipendenti piani di crescita dei lavoratori incentivazione economica e le buone pratiche economiche verso i fornitori quindi intanto definire criteri per l'equo prezzo dei prodotti acquistati e l'adeguamento alle normative in termini di pagamento massimo tollerabili i criteri di sostenibilità si riferiscono anche alla supply chain come applicazione e menzioniamo la ISO 20.400 quindi l'approvvigionamento sostenibile è una norma che definisce le linee guida per l'integrazione della responsabilità sociale nelle politiche e processi di approvvigionamento di un'organizzazione è una norma particolarmente indicata per gestire ad esempio i rischi legati ai processi di approvvigionamento delocalizzati e l'outsourcing ad esempio un esempio pratico insomma che è operato da Rina nella filiera del mango si è applicato appunto i protocolli in relativo all'approvvigionamento sostenibile dove sono stati convolti anche dei fornitori dello Sri Lanka in base alla invece in ottima di responsabilità sociale la ISO 26000 quindi guida alla responsabilità sociale questa integrazione nei processi aziendali nella propria organizzazione appunto può essere quindi di reale supporto a quelli che sono gli obiettivi di di sostenibilità da ultimo menzionerei quelli che sono gli eventuali disciplinari tecnici eh di prodotto eh sono disciplinari volontari con obiettivi di caratterizzazione del prodotto agroalimentare in relazione ad approcci e modalità e tecniche di produzione sostenibili eh qui sono menzionati tre insomma eh tre argomentazioni che sono comunque di che che riprendono queste queste tematiche residuo zero senza antibiotici eh nickel tested residuo zero ad esempio è l'applicazione eh di un disciplinario che al residuo zero armonizza l'utilizzo eh consapevole minimo di fitofarmici le tecniche di produzione integrata eh quindi stabilisce requisiti per l'ottenimento eh di un prodotto con un abbattimento del cento per cento di quello che è residuo massimo ammissibile ehm rispetto alla normativa alla normativa coagente di riferimento il senza di piotici eh è un'applicazione volta alla sospensione della somministrazione di antibiologici durante una determinate fase eh della vita dell'animale e in riferimento pertanto anche a quelli che sono eh criteri di 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 benessere animale che eh è è strettamente correlato al alla alla sostenibilità eh il nickel tested è un'applicazione che è rivolta ad esempio all'applicazione di eh alle colture ad esempio in idroponica eh tecnica che prevede una coltivazione fuori suolo quindi eh con conseguente efficientamento dell'utilizzo delle risorse idriche in quanto c'è un riciclo del ciclo di irrigazione eh gestione ottimizzazione della gestione dei nutrienti del controllo delle malattie eh legate ai parassiti tipici delle coltivazioni tradizionali quindi con conseguente eh riduzione al minimo dei riservanti di di sostanze chimiche andando a concludere ecco mh a fronte di una tematica così complessa così importante eh l'implementazione appunto di standard di sostenibilità comportano monesi eh benefici per le imprese quindi per i prodotti commercializzati eh sicuramente elemento di comunicazione diretta al consumatore che è sempre più sensibile alle tematiche ambientali di sostenibilità eh quindi in grado di contribuire alla scelta consapevole responsabile dell'acquisto chiaramente l'applicazione eh di di protocolli volte a 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 di questi determinati eh obiettivi di natura ambientale e sostenibile eh rientra nell'obiettivo di politica ambientale appunto che è stata da lui eh e e comunque dalle altre organizzazioni in ambito internazionale questo va di pari passo chiaramente anche alla valorizzazione aziendale dei prodotti ottenuti la certificazione eh consente come tutti diciamo sistemi sani di di certificazione di prestare obiettivi di miglioramenti nel tempo eh che contribuiscono in questo caso eh oltre all'efficienza ambientale anche quella economica derivante appunto dalla razionalizzazione dei processi produttivi adottati si può eh applicare eh più più fortemente il concetto di trasparenza e tracciabilità quindi certificazioni credibili e tracciabili eh con relativa comunicazione delle informazioni sostenibili a pubblico eh questo anche attraverso le le nuove tecnologie come blockchain e comunque digitalizzazione che che nei prossimi anni sicuramente insomma eh la farà da eh avrà un ruolo sempre sempre più importante sempre più più attore principale e chiaramente va da sé che eh questo impegno eh porrà una maggiore facilitazione all'accesso ai mercati che richiedono determinati requisiti quindi GDO e internazionali questa era la ultima slide grazie grazie dottor Gullo eh devo solamente dirti che la tua linea internet ci ha fatto stare sempre molto sul chi va là sembrava dovesse lasciarci da un momento all'altro eh invece ha retto eh infatti mi dispiace mi dispiace abbiamo abbiamo capito tutto e ascoltato tutto con estremo piacere ehm sento sempre più spesso dire il consumatore è maturo è sensibile a tematiche di sostenibilità ehm come voi certamente sapete e saprete eh lo è senz'altro eh andate a vedere pur tutte le statistiche purché il prezzo di vendita non venga modificato di nulla perché che non è disposto a nessuna eh a nessun punto percentuale a favore di elementi extra eh prodotto cioè sostenibilità economia circolare tutto quanto quindi va molto bene il consumatore lo è sensibile ma attenzione a non modificare il prezzo di vendita cosa che spesso invece è richiesta se si vogliono adottare determinate considerazioni volevo vedere se ci sono altri interventi no da chat non c'è nulla molto bene grazie dottor Gullo grazie dell'intervento grazie alla prossima grazie mille e ora la volta della dottoressa Cettineo Cettineo non solo ve l'avere dall'accento onestamente dovrebbe essere la penultima quindi Cettineo Cettineo ecco e infatti vabbè no in italiano è sempre sulla penultima l'accento però nel suo caso non è così la dottoressa Silvia Cettineo di Kiwa Cermet Italia altra azienda leader nel settore della certificazione ci parla ci fa un intervento altrettanto interessante nuovi servizi certificativi in ambito salubrità degli alimenti certamente saprete che ultimamente c'è stata una esplosione una variegata diffusione di servizi legati anche al covid ma anche alla disinfestazione ambientale e cose analoghe ma ripeto soprattutto io so che non ne parlerà volutamente in modo diretto la dottoressa perché non fa parte dei loro compiti ma lo dico io lo stesso e così e queste aziende anziché disinfestare molte volte si sono resi loro parassite proprio in virtù del momento delicato e quindi ci sono tantissime aziende che stanno proponendo servizi peraltro nemmeno adottati dal Ministero della Salute e comunque resi fattibili dal Ministero della Salute ma questo è lo stesso ovviamente cavalcando il momento delicato si stanno proponendo vediamo invece di cosa si parla in questo intervento da parte di Cermet Italia a lei la parola grazie dottor Porretta la ringrazio anche per l'invito perché è praticamente la prima possibilità di presentare al pubblico il nostro nuovo servizio io sono Silvia Settino sono l'account manager di Ciro Italia per quanto riguarda tutte le certificazioni del sistema e delle professioni e ringrazio anche l'algoritmo che mi ha permesso di ascoltare gli interventi dei colleghi precedenti perché alla fine vedrete siamo tutti allineati sul fatto che questa pandemia comunque ha segnato in questo momento nella storia e come qualsiasi momento storico diciamo il momento storico caratterizza generalmente sempre delle dei nuovi mercati delle diciamo della nuova normalità e quindi in questo momento come ente di certificazione ci siamo messi nella così nella riflessione di cercare di individuare nuovi servizi quindi innovare quando ci sono delle difficoltà si cerca sempre di innovare se siamo arrivati ad oggi perché si è sempre innovato nella storia e nuove professionalità due parole su chi è Kiva ma due parole giusto perché non voglio rubare altro tempo siamo un organismo di certificazione internazionale siamo presente nel mondo in più di 40 paesi quindi ci occupiamo di testing sezione certificazione innanzitutto perché Kiva ha pensato a questo servizio come dicevo perché di fronte a una pandemia generalmente è d'obbligo cercare di trovare nuovi servizi è d'obbligo cercare di trovare nuove professionalità perché sicuramente l'ho sentito dire anche dai colleghi precedenti sicuramente andremo incontro a una nuova normalità quanto nuova lo capiremo vivendo però ci saranno qualche cosa che cambierà cambierà decisamente non fosse altro soprattutto per la consapevolezza della parte della collettività dell'importanza dei requisiti rispetto di sicurezza genico sanitaria questo sicuramente è un aspetto importante quindi Kiva cosa ha fatto? Ha detto cerchiamo di fornire una soluzione ma una soluzione che non mira solo a gestire l'emergenza sanitaria il nostro obiettivo principale è proprio quello di cercare di trovare una soluzione che vada nella logica di garantire dei servizi e delle professionalità per il nuovo mercato bene da dove siamo partiti? Siamo partiti soprattutto dal fatto di metterci dalla parte dei fruitori degli ambienti oggi gli ambienti sono sicuramente molto molto sono le realtà in cui generalmente oggi i fruitori rivestono molta attenzione per capire soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria il fatto della salubrità se sono ambienti che riescono a garantire la salubrità a chi poi appunto a chi presenterà a chi frequenterà quegli ambienti quindi ci siamo messi da questo punto di vista noi siamo i consumatori bene che cosa si aspetta un consumatore che cosa si aspetta un fruitore dell'ambiente si aspetta avere la possibilità di scegliere degli ambienti in modo sicuro in modo trasparente con credibilità noi siamo l'organismo di certificazione e noi facciamo controlli quindi noi certifichiamo noi controlliamo noi garantiamo questo tipo di aspetto secondo dei standard normativi o dei documenti datici proprietari bene da una parte abbiamo pensato a questo aspetto dall'altra parte abbiamo detto dobbiamo offrire assolutamente alle realtà che virtuose di pensarsi nel mercato soprattutto quando veramente sono virtuose nell'ambito del rispetto dei siti di sicurezza genico sanitario e di realtà virtuose ce ne sono molte ma spesso non hanno la possibilità di differenziarsi in modo oggettivo e credibile e sepportutto cerchiamo di definire degli strumenti che permettono di garantire in modo di mantenere il tempo ambienti salubre per i fruttori appunto di questi ambienti diciamo che alla base di tutti questi obiettivi c'è l'obiettivo principale proprio quello di cercare di sensibilizzare la cultura della prevenzione unitamente alla cultura del monitoraggio sono gli aspetti fondamentali per veramente rendere efficace qualsiasi tipo di intervento se non c'è prevenzione non c'è controllo l'efficacia non sarà mai garantita in questo con queste premesse con questa considerazione abbiamo sviluppato due schemi di certificazione uno nell'ambito della certificazione di servizio processo prodotto l'altro nell'ambito della certificazione delle professioni appunto abbiamo sviluppato due servizi di certificazione un servizio di certificazione legato a certificazioni di processo di servizio dal titolo certificazione del servizio integrato di prevenzione delle contaminazioni tipo biologico chimico e fisico finalizzato l'assolubilità degli ambienti e un altro servizio di certificazione della professione nell'ambito del manager per l'assolubilità abbiamo detto all'inizio che era fondamentale creare appunto nuovi servizi innovando e soprattutto nuove competenze e nuove professionalità com'è che abbiamo sviluppato questi servizi perché non li abbiamo sviluppati come un protocollo key l'abbiamo sviluppati ovviamente rispettando le metodologie imposte dalle norme internazionali nello sviluppo di certificazioni di schemi certificazioni proprietari la norma di riferimento dei numeri non mi voglio focalizzare su questi aspetti ma la norma fondamentale è 17065 che è la norma che regola le certificazioni di prodotto servizio a processo e dice chiaramente che laddove non è possibile che un ente di certificazione può emettere anche un certificato in coerenza a documenti emessi da enti normatori o da schemi proprietari l'importante è che questi schemi proprietari siano sviluppati in coerenza con le norme che vedete indicate ossia la 17067 la 17007 e per quanto riguarda le professioni la 17024 quindi questo schema di certificazione è stato creato in coerenza a livello metodologico nel rispetto di queste norme un aspetto molto importante che come ho detto prima il documento principale che è il documento di certificazione del servizio di prevenzione integrato è un documento nella quale ci sono molti requisiti di tipo biologico chimico e fisico di tipo scientifico bene i contenuti della parte scientifica sono stati verificati validati da un comitato tecnico scientifico esterno attivo a CERMENT Italia proprio per avere anche una valizzazione da una terza parte specializzata e importante arriviamo al nostro servizio il servizio di certificazione integrato di prevenzione delle contaminazioni tipo biologico chimico e fisico finalizzato alla solidità degli ambienti di lavoro ed aperte a pubblico quindi parliamo di tutti gli ambienti fondamentalmente ma qual è la logica? La logica non è quella di avere individuato dei requisiti specifici nella logica di come deve essere fatta una sanificazione faccio un esempio la sanificazione delle superfici piuttosto che dell'aria l'obiettivo è quello proprio di individuare dei requisiti che permettano alle organizzazioni di approcciare alla diciamo alla gestione di tutti i processi che riguardano tutte le tipologie di sanificazione con una logica integrata preventiva integrata e sistemica questa questa logica questo approccio sistemico integrato deve avere però degli output degli obiettivi degli standard che sono già definiti all'interno del nostro documento proprietario che cosa intendo dire quello che noi riteniamo è che la cosa che è fondamentale oggi è veramente avere una capacità di programmazione di coordinamento e di monitoraggio gestita con una logica sistemica ma soprattutto avendo un parametro di riferimento cioè tutte le attività di tipo tecnico della sanificazione che vengono fatte o dai fornitori specializzati devono essere coordinate gestite verso l'obiettivo finale che deve essere condiviso bene all'interno del nostro documento oltre a aver definito i requisiti di servizio di questo servizio integrato abbiamo definito anche l'output di questo servizio i vari indicatori analitici che devono essere rispettati affinché un ambiente possa essere considerato salubre Kiwa non ha inventato non ha sviluppato niente perché ha recepito tutti indicatori che la scienza definisce come indicatori di salubrità degli ambienti vedrete la logica con cui abbiamo sviluppato questo 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 schema di certificazione cercando di rendere oggettivabile qualsiasi tipo di valutazione a chi si rivolge questo standard si rivolge a tutte le aziende a tutte le realtà che siano pubblica e private e a tutti gli ambienti di queste realtà ad eccezione degli ospedali e delle case di cura quindi gli ambienti gli ambienti è l'aspetto diciamo è l'obiettivo finale affinché destinatario di questo di questo schema però gli ambienti come ho detto sono tutti e come abbiamo fatto a definire per ogni ambiente dei parametri di tipo biologico chimico e fisico abbiamo alla fine creato quattro classi di ambienti abbiamo creato quattro classi di ambienti in quanto abbiamo considerato gli ambienti esposti ad un rischio da contaminazione quindi l'ambiente fondamentalmente viene individuato a seconda dell'esposizione al rischio e questo rischio viene calcolato in base a una formula per prestazione in permanenza per assembramento quindi alla fine sono stati per in riferimento a questi quattro rischi quattro classi di ambienti sono state definite una serie di indicatori di parametri tipo biologico chimico e fisico il cui raggiungimento garantisce il fatto che quell'ambiente è salubre da un punto di vista biologico chimico e fisico bene io andrei oltre questo lo discuto alla fine voi vi chiederete ma l'ambiente è salubre nel momento in cui ho la certezza in quello stesso momento in quel momento ma poi può essere facilmente contaminato un ambiente bene abbiamo definito anche dei requisiti comportamentali per limitare nel tempo questo tipo di contagio quindi è l'insieme questo documento alla fine va a gestire una parte prettamente scientifica che indica effettivamente se l'ambiente può essere considerato salubre contemporaneamente sono stati definiti dei requisiti che possano garantire il mantenimento del tempo di questo di questo ambiente della salubrità di questo ambiente non è semplice da da spiegare necessiterebbe sicuramente di più tempo per fare un esempio gli indicatori analitici presi a riferimento tipo biologico chimico fisico per fare un esempio abbiamo trattato del zen il particolato aerodisperso il fumo di tabacco l'illuminazione il gas radon la legionella perché l'obiettivo è quello non di garantire solo la non contaminazione da virus ma da tutti i fattori inquinanti quindi tutti ogni ambiente ha un suo parametro di riferimento a seconda dell'appunto del fattore dell'indicatore inquinante per poter garantire nel tempo la salubrità dell'ambiente l'aspetto veramente ritengo innovativo è il fatto di avere individuato dei requisiti specifici e molto adeguati alla tipologia di ambiente che si oggetto di certificazione dei requisiti che riguardano i controlli interni che l'organizzazione deve garantire mi spiego ed è l'aspetto più innovativo sicuramente l'organismo in certificazione ovviamente andrà a fare un controllo sistematico in fase di rilascio di certificazione ma affinché un'organizzazione possa garantire nel tempo il mantenimento della salubrità di tali ambienti è fondamentale che ottempri a tutta una serie di controlli che sono stati definiti e che devono essere controllati internamente da personale e dall'organizzazione non da lente di terza parte indipendente questo è un aspetto fondamentale affinché si possa avere la garanzia dell'efficacia del proprio sistema ovviamente questi controlli sono trasmessi e controllati da Kiwa tramite anche un sistema di blockchain quindi una tracciabilità di tutti i controlli che permette anzi di accedere anche dall'esterno il fruittore della miete può accedere per verificare se l'organizzazione continua a mantenere in tempo questi controlli ma è un aspetto molto importante per due motivi uno perché oggettivamente obbliga le organizzazioni a monitorare nel tempo con delle frequenze molto molto strette e sono frequenze adeguate all'esposizione al rischio del singolo ambiente è un aspetto molto molto veramente molto importante che andrebbe analizzato ma fondamentalmente è un aspetto anche importante perché il controllo che richiediamo rispetto al singolo ambiente è tarato rispetto all'esposizione al rischio del singolo ambiente faccio un esempio veloce una sala d'attesa in un'azienda molto probabilmente avrà un'esposizione al rischio diversa dalla sala d'attesa di una stazione ferroviaria di conseguenza avrà dovrà diciamo la stazione ferroviaria dell'ambiente della stazione ferroviaria avrà tutta una serie di controlli e di frequenze di controllo di tipo interno che dovrà garantire all'enti di certificazione che controllerà il fatto che l'organizzazione nel tempo ma parliamo un tempo brevissimo parliamo trimestralmente quadrimestralmente a seconda appunto dell'esposizione al rischio dell'ambiente dovrà garantire all'enti di certificazione per concludere perché immagino che il mio tempo sia ormai scaduto e l'aspetto veramente molto importante è è proprio questo il fatto che di sensibilizzare il mercato affinché affinché investa attenzione nel rispettare questi requisiti di tipo interno che permettono veramente di superare i momenti di difficoltà con la massima efficacia ed efficienza senza senza anche un'esposizione da un tipo di vista di costi importante perché parliamo di costi che sono sostenuti internamente all'organizzazione senza il coinvolgimento sistematico di un ente di terza parte questo è un aspetto molto importante è una certificazione di prodotto barra processo di conseguenza il certificato ha validità annuale quindi c'è un audit l'itericertificazione costa in un audit di rilascio iniziale con un controllo che effettua a Kiwa Cermet periodico nell'anno tramite appunto il sistema della blockchain e con anche ovviamente un audit non annunciato però da parte di Kiwa ovviamente con delle tempistiche molto molto limitate a livello di tempistiche per verificare quindi audit non annunciato per verificare a campione che l'organizzazione continui a gestire i controlli di cui abbiamo chiesto questo è il marco di certificazione di Kiwa ecco l'aspetto importante è l'ultimo aspetto che è fondamentale però all'interno del nostro schema di certificazione è stato definito chi deve fare quei controlli quindi abbiamo inserito una nuova professionalità ed è il manager per la salubrità degli ambienti che non è un ispettore Kiwa non è un ispettore è una figura che deve avere delle caratteristiche professionali quindi deve avere dell'esperienza e della formazione quindi della competenza specifica per poter essere un profilo adeguato per garantire il requisito del servizio integrato di prevenzione e soprattutto per garantire nel tempo in modo efficiente molto importante anche l'efficienza e in modo efficace gli ambienti che l'organizzazione intende a sottoporre a certificazione io mi scuso perché c'è stato un po' di perdita di tempo all'inizio spero che ci sia l'occasione di approfondire anche questi argomenti ecco la cosa importante è che dobbiamo credere nel cambiamento dobbiamo credere del fatto che per questi momenti si passa veramente solo tramite l'innovazione tramite la capacità di andare oltre e bisogna credere ed essere veramente fautori nel volere a tutti i costi cercare di cambiare cambiare un mercato che sta cambiando per cui io vi ringrazio se avete domande sono a disposizione bene grazie grazie dottoressa Cettine c'è stato qualche problema iniziale di collegamento ma ci siamo arrivati in fondo e con grossa soddisfazione anche perché l'argomento come anticipavo è molto sentito ma soprattutto ci sono abusi da parte di enti organizzazioni aziende pseudoserie ci sono domande per la dottoressa non mi pare di vedere nulla in chat allora io come vedete vi vi rinnovo l'appuntamento a dare un'occhiata al nostro sito internet grazie nella chat vedo ringraziamenti ok vi do l'appuntamento domani alle 10 domani è un appuntamento altrettanto importante abbiamo un convegno meet.it anche questo periodico di aggiornamento sul mondo della carne trasformata dei salumi e abbiamo un parterre molto nutrito si va dalla grande distribuzione organizzata normativa problematiche sanitarie microbiche anche appunto si parlerà di sanitizzazione attraverso l'utilizzo di ozono di cui ho fatto un breve cenno vediamo una di queste aziende che cosa ha da dirci grazie a tutti per la pazienza la collaborazione ai relatori grazie ad Accredi a CSQA Agroqualità e a Kiwa Cermet e ai loro relatori per la solita collaborazione grazie a tutti buon pomeriggio ci vediamo domani a presto arrivederci grazie a tutti